Riprendiamo il discorso della determinazione dei flussi di cassa scontati che abbiamo cominciato nella scorsa lezione. Abbiamo fatto una derivazione contabile dei flussi di cassa, quindi del rendiconto finanziario, partendo da interazioni, da variazioni di stato patrimoniale collegate con il conto economico. Facendo un esempio concreto possiamo dire che noi consideriamo una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 confrontata con una situazione patrimoniale ovviamente della stessa società al 31 dicembre 2018, vediamo quelle che sono le variazioni di attività, passività e patrimonio netto, colleghiamo queste variazioni di stato patrimoniale con il conto economico dell'ultimo esercizio, quindi dell'esercizio 2019 e intrecciando variazioni di stato patrimoniale con i flussi del conto economico dell'ultimo esercizio otteniamo il rendiconto finanziario. Lo schema che noi andiamo a considerare come già anticipato è leggermente diverso da quello che voi trovate nei principi contabili e anche perché ci interessa stimare le EBIT da quindi il margine operativo lordo e poi il flusso di cassa operativo che sono concetti non presenti negli schemi di rendiconto finanziario secondo l'organismo italiano di contabilità oppure i principi contabili internazionali IACFRS. Tutti gli schemi di rendiconto finanziario arrivano allo stesso punto di destinazione che è la quantificazione numerica del flusso di cassa netto per i soci che corrisponde alla variazione della liquidità nello stato patrimoniale nell'attivo da un esercizio all'altro. Abbiamo visto il concetto di fronte di finanziamento e impieghi di capitale con costi monetari e non monetari, il capitale circolante netto, adesso ci soffermiamo brevemente sul rendiconto finanziario che ha questo schema apparentemente semplice. Il rendiconto finanziario è dato da la differenza tra ricavi operativi monetari e costi operativi monetari al netto di resi a buoni sconti che mi dà il margine operativo lordo e questo è il primo parametro contabile di riferimento che abbiamo più volte definito. È particolarmente importante il margine operativo lordo perché è l'unico parametro ad essere contemporaneamente economico e finanziario, quindi esprime sia una marginalità economica sia una marginalità o un flusso di natura finanziaria. Se il margine operativo lordo è positivo, quindi se esiste un'eccedenza dei ricavi operativi monetari rispetto ai costi operativi monetari, allora la società nell'ambito del suo conto economico è in grado di produrre, di generare preziosa liquidità che serve a titolo di autofinanziamento. È la liquidità più preziosa perché è quella che viene internamente prodotta. Altra liquidità, altre risorse finanziarie possono essere fornite o dai soci o dalle banche, dai terzi finanziatori, ma qui si tratta di raccogliere del capitale. Se le banche mi prestano dei soldi, poi ovviamente dovrò restituirli. Se i soci sottoscrivono un conferimento iniziale o un aumento di capitale a pagamento, si aspettano prima o poi una remunerazione del capitale di rischio, essenzialmente sotto forma di dividendi. Se invece io utilizzo autofinanziamento, non ho nessuna negoziazione da porre in rischio, perché sono soldi già presenti nelle tasche della società e quindi si tratta delle risorse finanziarie preferibili. Questo è particolarmente importante anche in momenti di crisi, quando ci sono aspetti congiunturali dedicati, quando c'è ad esempio una pandemia internazionale, perché le banche sono più resti a concedere credito, anche perché le aspettative delle imprese sono più complicate e i soci dicono, ma ci aspettiamo pochi dividendi, la remunerazione del capitale attesa è difficile, magari non abbiamo particolari risorse finanziarie per cui vengono meno questi finanziamenti a titolo di capitale raccolto. E quindi anche in questo ambito, anche in situazioni di difficoltà, il ricorso all'autofinanziamento attraverso un obiettivo di massimizzazione del margine operativo lordo è particolarmente importante. Dopo il MOL c'è una variazione del circolante operativo e della CAPEX, cioè dell'attivo mobilizzato netto, adesso poi vedremo anche degli esempi contabili, tutto questo mi dà il flusso di cassa operativo, quello che vedete evidenziato in verde. Dopo il flusso di cassa operativo c'è essenzialmente il servizio del debito, gli interessi passivi e nuovo debito che viene rimborsato e in tal caso è un'uscita di cassa, è un impiego, oppure debito addizionale che viene raccolto ed è capitale raccolto, è una fonte di finanziamento. Quindi a seconda del segno posso avere aumento di passività, fonte, diminuzione di passività, impiego, assorbimento, investimento. Poi ho le componenti accessorie di conto economico che non vanno considerate nel MOL ovviamente perché vengono considerate sotto nel conto economico scalare e da ultimo arrivo al flusso di cassa netto per i soci. Il flusso di cassa netto che io ricavo con il rendiconto finanziario deve corrispondere con la variazione della liquidità che abbiamo visto in quel schema. Ecco, qui viene evidenziata come variazione da un anno rispetto all'altro ed è il valore obiettivo a cui tende il nostro rendiconto finanziario. Se la derivazione analitica del rendiconto finanziario che abbiamo visto con lo schema prospettato poco fa coincide con la variazione di liquidità nell'ambito dello stato patrimoniale, questo significa che il calcolo del rendiconto è stato fatto in maniera corretta. Queste sono un po' le considerazioni preliminari, quindi è una sorta di riassunto che abbiamo fatto della puntata precedente. Adesso vediamo di vedere alcune derivazioni di natura contabile. La prima è questa. Come si può arrivare? Questo è un caso, come vedete sono tabelle in Excel importate in Word, dopo vedremo anche la fonte originaria, costituita dal caso Delta, caso Delta che ha anche una sua, ha un suo video apposito e quindi ha un materiale didattico dedicato comprensivo anche di un file Excel che voi potete manipolare e modificare per vedere anche che cosa succede per sottoporlo a uno stress test a una sensitivity in cui cambiando certi parametri poi vedete l'impatto che si ha sul rendiconto. Vedremo poi di fare insieme alcune simulazioni pratiche. Che cosa vediamo nei singoli schemi? Primo, come si fa ad arrivare al margine operativo lordo? Posso o partire dall'alto, dall'alto vuol dire ricavi operativi monetari, meno costi operativi monetari, oppure partire dall'A meno B, la differenza tra valore e costi della produzione, differenza civilistica, differenza richiamata dall'articolo 2425 del codice civile contenuto del conto economico? Va e spunta da questa differenza tutta la parte straordinaria, il codice civile, questo articolo è cambiato alcuni anni fa, prima era molto meglio nel senso che prima le componenti straordinarie, plusvalenze, minusvalenze, sopravenienze attive e passive erano messe in fondo verso la fine del conto economico scalare, ora sono in parte ricompresi nella parte alta del conto economico per cui dobbiamo depurare la gestione operativa tipica caratteristica da questi inquinamenti di voci che non hanno caratteristiche tipiche. Se una sopravenienza attiva è un evento eccezionale, se ha una ripetitività tutti gli anni a questo punto non è più una sopravenienza, ma è un ricavo tipico. Allora, ripeto, per arrivare alla stima del MOL possiamo o partire dall'alto, ricavi operativi monetari, meno costi operativi monetari e abbiamo fatto un esempio che adesso richiamo, oppure possiamo partire dal basso. L'esempio pratico che abbiamo fatto, tornando un po' sopra, è esattamente questo, considerando uno schema di conto economico bisezionale in questo caso, quindi che non è ancora scalare, perché mi interessa arrivare a vedere la differenza tra i costi in dare e i ricavi in avere, abbiamo ricavi monetari, meno costi monetari, questa differenza di 10.000, nell'esempio questo riquadro in rosa che abbiamo rappresentato, rappresenta il margine operativo lordo. Posso partire dall'alto anche con un conto economico scalare, posso invece dire in via complementare, parto dall'A-B, dalla differenza tra valore e costi a produzione, il risultato operativo e civilistico, sommo ammortamenti e accantonamenti, cioè quei costi che sono sì operativi, tipici, caratteristici, ma non hanno natura monetaria, cioè non comportano uscite di cassa e tutto questo, quindi risultato operativo più ammortamenti uguale flusso monetario dell'area operativa, cioè margine operativo lordo. Ecco, perché gli ammortamenti sono un costo operativo ma non hanno natura monetaria? Allora, non è dubbia la circostanza che siano dei costi operativi perché sono relativi alla gestione operativa, sono la fetta di torta che va paragonata, va ovviamente associata alla torta CAPEX, capital expenditure, alla torta immobilizzazioni materiali o immateriali a seconda dei casi. Però sono dei costi che non hanno natura monetaria, faccio un esempio, supponiamo che io quest'anno nel 2020 compero un cespite e lo pago 100, lo ammortizzo in quote di ammortamento costanti in 5 anni, quindi 20 ogni anno. A questo punto il costo relativo all'ammortamento annuo, cioè il 20 che avrò quest'anno e poi avanti per i prossimi 4 anni, senza considerare per semplificazione un ammortamento eventualmente dimezzato al primo anno, cosa che è possibile fiscalmente e con aspetti anche particolari civilistici. Allora ripeto, se ho un'uscita di 100, un costo di acquisto di 100 del mio impianto e poi lo ammortizzo per una quota di 20 all'anno in quote costanti, io avrò un'uscita di cassa subito quest'anno nel 2020 di 100. Tutti poi i costi degli anni successivi non comportano uscite di cassa perché la cassa si è già ridotta in fase iniziale, in fase di acquisto. Quindi questi costi non hanno natura monetaria, questo vale anche per gli accantonamenti eccetera. Il fatto che io faccia ammortamenti più o meno rilevanti non ha alcun impatto sulla cassa e quindi il peso degli ammortamenti va sterilizzato. Allora abbiamo questa derivazione del margine operativo lordo. A questo punto sommiamo algebricamente al margine operativo lordo la variazione del circolante e dell'attivo immobilizzato, adesso vedremo di fare anche un commento su questo e poi arriviamo al flusso di cassa operativo. Va fatta una considerazione sul capitale circolante netto operativo, adesso vado abbastanza velocemente con questi esempi, poi riprenderemo esattamente tutti questi concetti quando parleremo più analiticamente del caso delta da cui peraltro questi esempi sono tratti. Quindi dobbiamo leggere in un'ottica complementare questo pdf di lettura con il file excel relativo al caso delta. Allora sul circolante bisogna ricordare che questo è un capitale circolante netto operativo, dato essenzialmente da tre voci, le rimanenze di magazzino, i crediti verso clienti al netto dei debiti verso fornitori. Ovviamente devono essere tre voci a breve termine, quindi il magazzino non deve contenere uno cosiddetto slow moving, cioè merci che non ruotano, non rigirano, non circolano entro l'anno. Faccio un esempio, io ho un'enoteca, se io non prevedo di vendere del vino rosso dannata entro l'anno, a questo punto questa rimanenza sarà di fatto una scorta immobilizzata. Quindi teniamo conto anche di questi aspetti e teniamo conto della circostanza che anche i crediti devono essere incassabili entro l'anno, far parte dell'attivo circolante corrente a breve e i debiti verso fornitori devono essere esigibili essi pure entro l'anno. Tutto quello che va oltre l'anno, magazzino, crediti o debiti verso fornitori, non fa parte del capitale circolante netto operativo. A questo punto vedremo poi gli esempi di variani con i segni anche che cambiano, ma questo poi va rapportato alla fonte, quindi al caso Excel. Possiamo dire una cosa importante e cercare di ovviare subito uno sbaglio che viene fatto con estrema frequenza dai non addetti ai lavori. Supponiamo che il capitale circolante netto operativo da un anno all'altro aumenti, quindi io ho un capitale circolante netto operativo il primo anno nello stato patrimoniale che è pari a 100, nel secondo anno è pari a 250, espresso sempre nell'attivo, quindi aumenta di 150. Se il capitale circolante netto commerciale operativo aumenta, che impatto ho secondo voi sulla cassa? La cassa, la liquidità aumenta o si riduce? Aumenta il circolante. Cosa succede? Se aumenta il circolante, come dice Andrea, spero che gli altri non stiano dormendo, la liquidità si riduce. Anche Edoardo interviene in questo senso e quindi ormai adesso la risposta la conosciamo. Qual è il motivo? Il motivo risiede in una considerazione che abbiamo fatto nella lezione precedente. Se il circolante aumenta, se il circolante è una attività, quindi ho rimanenze più crediti commerciali al netto di debiti verso fornitore, che è un valore positivo, 250 rispetto al 100 dell'anno precedente, nell'esempio che abbiamo fatto, allora questo circolante è un impiego, va nell'attivo e l'impiego è un assorbimento di risorse finanziarie. Se aumenta il circolante io assorbo risorse. Questo è un aspetto particolarmente importante. Facciamo un esempio con riferimento alle tre voci fondamentali, al magazzino, ai crediti commerciali verso clienti e ai debiti operativi verso fornitori. Magazzino. Supponiamo di considerare società che chiudono l'esercizio al 31 dicembre e quindi hanno un esercizio coincidente con l'anno solare. A questo punto possiamo fare la seguente considerazione. Una tipica strategia non solo commerciale ma anche strategica, manageriale, è quella di far fare magazzino agli altri. Cosa vuol dire? Io voglio alla fine dell'anno cercare di far fuori il magazzino per minimizzarlo e avere anche un miglioramento dei flussi di cassa. Se io riesco a vendere tanti prodotti, tanti articoli entro il 31 dicembre, ovviamente il magazzino si riduce e aumenta la liquidità. C'è però un problema anche di magazzino legato al ciclo delle vendite e all'aspetto manageriale della società. Che cosa significa questo? Supponiamo di avere società che possono anche andare in rottura di stock, evento che si può verificare anche quando ci sono ad esempio delle pandemie. Non ho dei fornitori perché le aziende a livello di supply chain internazionale funzionano meno bene rispetto a qualche mese fa, qualche settimana fa, ci sono problemi di approvvigionamento, a un certo punto non riesco a trasformare le materie prime in prodotti finiti perché mi mancano alcune componenti essenziali. Vado in rottura di stock, esaurisco le scorte, non ho più scorte di respiratori, di mascherine, di amuchina eccetera, perché c'è una forte domanda e l'approvvigionamento segue dei canali che sono molto più faraginosi, imperfetti rispetto al passato. Allora, un altro esempio che potremmo fare è questo. Supponiamo che qualcuno di voi debba andare a comprare un paio di scarpe. Ovviamente operazione possibile quando i negozi sono aperti. Andiamo a Milano nella centralissima via Torino che è piena di negozi di scarpe di qualità medio-bassa, quindi comunque teniamolo come esempio, quindi partiamo dal Carrobio e arriviamo fino a Piazza del Duomo. A questo punto vi è mai capitato, e mi rivolgo soprattutto alle fanciulle, alle cenerentole che mi ascoltano, di andare in un negozio di scarpe e dire guardi, lei non è particolarmente fortunata, ho tutti i numeri di piede tranne quello che serve a lei. Vi è mai capitata una cosa del genere? Soprattutto quando ci sono i saldi? Sì, capita, come dice Laura, purtroppo sì, Alessandra idem, quindi può succedere. Allora, il negoziante di calzature ha questo trade-off, questa alternativa a livello strategico. Se ha un vasto assortimento di magazzino, vende di più, però rischia di avere un invenduto e questo magazzino che ha, che va a gonfiare il circolante, se lo deve anche finanziare. Cioè, il magazzino è una attività che va finanziata, va coperta, va controbilanciata contabilmente con una passività, ovviamente. Aumento il magazzino? Ebbè, questi soldi me li devono dare o i soci o le banche. Quindi, aumento il capitale investito? Dovrò avere un incremento di capitale raccolto. E questo costa, ha un costo finanziario. Allora, riprendiamo l'esempio del negozio di calzature e possiamo dire la seguente cosa. Supponiamo che io entro in un negozio, mi dicono, guarda, non c'è quel paio di scarpe, se vuoi te le ordiniamo arrivano domani. Che cosa fate? Aspettate o andate da un'altra parte. Domanda da consumatore. Eh, non è una domanda di finanza, è una domanda da... Ecco, Alessandra dice, nuovo store. Edoardo, andiamo via. Laura, dipende, forse un po' più diplomatica. Allora, rifacciamo un po' l'esempio. Siamo a Milano e in via Torino, negozio di scarpe, non trovo le scarpe che mi interessano, vado nel negozio di fianco. Mi trovo nel paesino sperduto di montagna, in cui c'è un solo negozio di scarpe, che è un articolo che difficilmente si compra sulle piattaforme online, su Amazon, perché magari devo anche provarle. A quel punto forse aspetto. Il sistema di vendite per corrispondenza, la vecchia postal market, che non esiste più da anni, era nata negli Stati Uniti negli anni 50 nel dopoguerra, soprattutto per rifornire i piccoli paesi che erano lontani anche dai grandi centri commerciali. Per cui la risposta è questa, non trovo il paio di scarpe? Se mi piacciono particolarmente posso aspettare un giorno o due per riassortimento, altrimenti cambio negozi. Allora, questo è un trade-off importante e uno degli aspetti principali che deve affrontare il negoziante. Se il magazzino è troppo fornito, a questo punto devo finanziarlo con un circolante che va appunto pagato, va finanziato. Se il magazzino è molto scarno e scarso, a questo punto ci sarà un impatto negativo sulle vendite. Il negozio è poco fornito, ha un assortimento limitato e quindi vende poco. Queste cose si può fare un esempio anche un po' diverso, ma vale la pena di affrontarlo, con una libreria. Voglio andare in una libreria, vado in Università Cattolica alla Vita e Pensiero, mi interessa comprare un determinato libro. Se il libro c'è, benissimo, il libro non c'è, dicono, l'ordiniamo arriva tra uno o due giorni. Ormai la catena anche distributiva è diventata molto più efficiente. Che cosa fate? Tornate in libreria? Andate in un'altra libreria? Lo comprate con un provider online tipo Amazon o un Internet Bookshop? Avete l'abbonamento Amazon Prime che in tempi normali vi consegna il giorno dopo? Vedete anche qual è lo sconto che vi fanno? Tipicamente i libri non possono fare sconti per norma superiore al 15%? Ci sono tante considerazioni. Allora diciamo, il paio di scarpe magari giustifica anche un'attesa, il libro forse meno. Potete addirittura al libro dire, ma chi se ne importa? Lo voglio subito, compro un e-book. Quindi vado su applicazioni Kindle o similari e lo leggo immediatamente costa anche meno. Non ha la fisicità della carta, ma è qualcosa di cui posso fruire immediatamente. Quindi il magazzino, per riprendere il discorso, deve adattarsi alle diverse fattispecie. Val la pena di fare un magazzino? In quanto tempo curo l'assortimento? Posso avere un approvvigionamento just in time? Terzo e ultimo esempio che facciamo può essere quello di una farmacia. Ogni quanto vengono rifornite le farmacie dai vari camioncini che portano farmaci? Qual è il tasso di rifornimento di una farmacia? Due volte al giorno tipicamente, la mattina e il pomeriggio. Vi è mai capitato di andare in farmacia e chiedete un determinato farmaco, ad esempio un ansiolitico se la vostra squadra di calcio va male, potrebbe essere, oppure un antistaminico, eccetera. Vi dicono guardi non l'abbiamo in questo momento, ma possiamo procurarglielo per oggi pomeriggio. Che cosa fate? Ancora una volta, se avete tante farmacie vicine potete andare da un'altra parte, se non avete particolare urgenza o siete in un posto che ha magari un'unica farmacia comoda, ritornate e prenotate il farmaco. Anche qui è un problema di magazzino. Attenzione, le farmacie hanno un criterio di rotazione del magazzino che è il cosiddetto FEFO, first expiring, first out. Cosa vuol dire? Se una farmacia ha una scorta di aspirina, vi venderà per prima l'aspirina che scade per prima. Oggi vi vende l'aspirina che scade tra due anni e poi carica in magazzino l'aspirina che scade magari tra due anni e due mesi, eccetera. Quindi è un criterio anche di rotazione del magazzino che segue anche la politica che fanno anche i supermercati di vendere per prima la merce che scade per prima. E anche per questo si chiama, ripeto, first expiring, first out. Cioè il primo farmaco che expire, che scade, è il primo che out, che va fuori, che viene venduto. Allora, l'ultimo esempio che facciamo, andate in un supermercato, volete comprare dei ravioli ovviamente confezionati? A questo punto trovate tutta la fila dei ravioli, se mettete la mano verso la fine dello scaffale, probabilmente trovate quelli che scadono per ultimi. Perché c'è anche qui una strategia commerciale di esporre sugli scaffali, eccetera, prima la merce che ovviamente scade per prima. Allora, tutto questo discorso ci fa capire quanto sia importante il magazzino anche nell'ambito del capitale circolante netto operativo e dell'assorbimento dei flussi di cassa se il magazzino aumenta. Altra considerazione complementare si può fare con i crediti commerciali nei confronti della clientela. Che cosa succede? Se il portafoglio crediti aumenta, se i crediti aumentano da un esercizio all'altro, ovviamente aumenta il circolante e io come impresa assorbo delle risorse finanziarie. Questo assorbimento di risorse finanziarie, esattamente come accade per il magazzino, costa, ha un costo finanziario. Costa perché è un aumento di attività, è un impiego, è un capitale investito che va finanziato da una fonte o da capitale raccolto. Aumentano i crediti verso clienti, devono aumentare o i debiti verso banche oppure il patrimonio netto, quindi i conferimenti dei soci. Allora, conviene o non conviene aumentare il circolante rappresentato dai crediti commerciali? La risposta è, beh, l'ideale sarebbe, Melissa mi dice di no, ma è vero, ma lo stesso vale anche per il magazzino. Io devo cercare di contenere, di minimizzare il capitale circolante. Questa minimizzazione però non può e non deve andare a scapito anche della gestione economica manageriale della mia azienda. Io potrei anche dire, non accetto dilazioni di pagamento, quindi o mi paghi pronta cassa oppure non ti vendo. Stile supermercato, quando vado al supermercato non è che pago a rate, pago subito, ma non tutti funzionano così. Molti negozi agiscono in questa maniera. Comperi qualcosa e lo paghi immediatamente. Quando però le imprese vendono con canali B2B, business to business, quindi ad alte imprese, non funziona così. Il fornitore di riso che vende il riso al supermercato dice, io fornitore di riso ti vendo riso e tu me lo paghi a 90 giorni. Poi so benissimo che tu quando vendi il riso confezionato sullo scaffale hai un incasso immediato. Quindi normalmente nel business to business c'è una dilazione di pagamento. Allora, le imprese sono assolutamente consapevoli del fatto che quando ci sono dilazioni di pagamento il circolante aumenta e questo circolante va finanziato. Però questo è uno strumento commerciale che in molti casi è assolutamente ineludibile. Della serie, se io non concedo dilazione di pagamento, forse non vendo. Un'impresa virtuosa può dire obiettivo, crediti commerciali zero? Benissimo, i ricavi però ne soffrono in maniera rilevante. Che cosa succede sul circolante e sui crediti commerciali quando ci sono degli shock, quando ci sono anche delle fasi recessive che sono anche abbastanza così improvvise e violente. Quando c'è uno shock legato a una pandemia. Uno dei principali problemi ai quali andremo incontro oggi, nei prossimi mesi, è questo. Non soltanto un calo della domanda e dell'offerta. Dell'offerta perché le imprese, la supply chain internazionale è molto complicata. Gli aerei non volano, i treni sono quasi fermi, i collegamenti anche all'interno di un singolo stato sono molto più difficoltosi, si fa fatica a uscire dal proprio comune. Quindi c'è un'offerta che cala e una domanda che si adegua, salvo generi di prima necessità. Ma ci sono anche aspetti ancora più rilevanti legati a questo. non solo è più difficile vendere in questo momento, ma la cosa ancora più complicata è farsi pagare. Quindi c'è un'attenzione particolare anche all'incasso. Il presumibile realizzo dei crediti diventa in momenti di crisi una variabile molto più rilevante, una variabile chiave da tenere in considerazione. Quindi concede una dilazione e il, diciamo, colui che compra a credito il prodotto potrebbe anche non saldarlo nei tempi stabiliti. Allora teniamo conto di questi aspetti. Quindi, ripeto, i crediti commerciali sono un aspetto fondamentale del circolante, purtroppo è difficile riuscire a vendere se non si concedono dilazioni alla clientela. Qualcuno dice, ma il mio mestiere è quello di produrre, non so, vino che vendo alla GDO. Io sono un produttore di vino, non sono una banca e quindi più di tanto non posso concedermi l'azione di pagamento. Però chi non lo fa rischia seriamente di uscire dal mercato perché ha delle dinamiche commerciali che non sono competitive. L'ultimo aspetto ugualmente importante del capitale circolante netto commerciale operativo è rappresentato a livello di passivo dai debiti verso fornitori. Ovviamente qui è una voce speculare, quindi opposta rispetto alle precedenti, se io aumento i debiti verso fornitori il circolante aumenta o diminuisce? Silenzio. Allora, se aumento i debiti verso fornitori il circolante diminuisce, è una passività. Quindi se io mi faccio finanziare dai fornitori la mia gestione finanziaria migliora, è una fonte di finanziamento di fatti, anche se poi la porta nell'attivo consegno meno, ma nasce come passività il debito verso fornitori, è esattamente il contrario dei crediti commerciali verso clienti. Allora, queste tre voci, ripeto, magazzino, crediti commerciali, debiti verso fornitori che formano l'ossatura, la parte principale del capitale circolante netto commerciale, possono essere legati anche a indicatori sul tasso di rotazione, ogni quanto tempo ruota il magazzino. Giorni medi di incasso dei crediti commerciali verso clienti, giorni medi di pagamento dei debiti verso fornitori. Se giorni medi di incasso dei crediti sono 90, quindi tre mesi, e giorni medi di pagamento dei debiti verso fornitori sono 60, vuol dire che io incasso a tre mesi e pago a due mesi, quindi ho un ciclo finanziario che assorbe liquidità. C'è un'ultima considerazione da fare importante, stiamo parlando degli aspetti finanziari, ma ci sono delle conseguenze di tipo economico. Abbiamo già detto questo, se io non ho una certa consistenza di magazzino non vendo, non vendo le scarpe se non ho un assortimento nel mio negozio, se non ho una certa politica di dilazioni commerciali non vendo, è difficile vendere business to business senza applicare dilazioni alla clientela corporate. Se io non ho debiti verso fornitori, in questo caso posso comprare lo stesso, il fornitore è ben contento di dire ti vendo e mi paghi subito. Ma ovviamente l'incidenza è è anche legata agli aspetti economici. Cosa vuol dire? Supponiamo che io abbia un cliente e gli dico guarda, io ti vendo questa merce al costo di 100 e tu mi paghi a 90 giorni. Se invece mi paghi subito ti faccio uno sconto pronta cassa e te la vendo a 98. Val la pena risparmiare il 2% in tre mesi che è circa un 8% su base annua senza considerare la capitalizzazione composta? Dipende. Il cliente può dire ci sto o non ci sto. Ti faccio uno sconto per pagamento pronta cassa e questo specularmente vale anche quando ho un debito verso il fornitore. Posso dire al fornitore, guarda, se io ti pago subito che sconto mi fai? Quindi queste considerazioni ci fanno capire che c'è una importante correlazione tra le politiche commerciali, tra quello che succede all'interno del circolante e quello che si verifica nell'ambito del conto economico. L'impatto sul conto economico delle mie strategie di gestione del circolante. Allora, con questo siamo arrivati, partendo dal margine operativo lordo, sommando algebricamente il circolante, a un certo punto del nostro rendiconto finanziario. Va poi considerato, e questo è un aspetto un pochino più semplice e meno articolato da spiegare, l'impatto della variazione dell'attivo immobilizzato netto, della cosiddetta CAPEX, capital expenditure, della spesa in conto capitale. Ovviamente, se io ho cespiti nello stato patrimoniale precedente per 200, l'anno dopo diventano 500, ho un aumento di cespiti pari a 300, questo è un impiego, questo è capitale investito, questo comporta un assorbimento di risorse finanziarie. Al netto delle dismissioni eccetera, senza considerare gli ammortimenti che, ripeto, non hanno un impatto di natura finanziaria, l'incremento netto dei cespiti assorbe risorse finanziarie. E qui abbiamo un esempio. Allora, concludendo questo aspetto, partiamo dal margine operativo lordo, vediamo l'impatto del circolante, il circolante potrebbe aumentare. Vediamo l'impatto della CAPEX, se la CAPEX aumenta, anche essa, ho due effetti che vanno a ridurre il contributo del margine operativo lordo. Quindi tipicamente, in molti casi, avrò un flusso di cassa operativo che è più basso del margine operativo lordo. Negli esempi che vedete, questo succede, non succede nel primo anno, ma succede nel secondo e negli altri anni successivi. E questo è un aspetto molto importante da prendere in considerazione. Abbiamo poi queste variazioni dell'attivo immobilizzato. Le immobilizzazioni materiali e materiali sono esposte al netto dei fondi ammortamento. Abbiamo poi questo flusso, questo margine operativo lordo, questa torta che io creo, questo flusso economico, ma anche finanziario, che è destinata a finanziare l'aumento del capitale circolante netto operativo, l'aumento degli investimenti netti, e tutto questo mi dà il flusso di cassa operativo, cioè prima del servizio del debito, a questo punto taglio fette di torta per gli oner finanziari netti, rimborso dei debiti, quindi servizio del debito in senso lato, o delle componenti straordinarie che non fanno parte del margine operativo lordo, quello che rimane in via residuale è un flusso di cassa netto per i soci, è l'ultima fetta di torta completamente variabile. Esiste una analogia tra questa interpretazione e quella che abbiamo visto nell'ambito del valore aggiunto e quindi anche di questo dobbiamo tenere conto. Ritornando un attimino a noi e all'esempio che facevamo del rendiconto, noi possiamo dire che il flusso di cassa operativo sta al risultato operativo, quindi al margine operativo netto, quindi al reddito operativo all'ebit, come il flusso di cassa netto sta al risultato netto, utile o perdita netta dell'esercizio. E possiamo fare anche un collegamento tra il flusso di cassa operativo e il capitale raccolto o investito. Il flusso di cassa netto è paragonabile all'utile netto in conto economico o al patrimonio netto nello stato patrimoniale, il flusso di cassa operativo è paragonabile al risultato netto nel conto economico o al risultato operativo nel conto economico oppure alla somma delle componenti a livello patrimoniale, quindi patrimonio netto più debiti finanziari al capitale raccolto nell'ambito dello stato patrimoniale. Questa è un'ulteriore considerazione che possiamo fare da un punto di vista pratico. Abbiamo poi successivi approfondimenti eccetera. C'è una parte che per adesso non consideriamo sulle applicazioni relative ai flussi di cassa scontati, quindi anche nella lezione di oggi ci fermiamo a considerare la derivazione contabile dei flussi di cassa. Adesso dedichiamo qualche minuto agli aspetti prioritari del caso Delta. Il caso Delta è piuttosto articolato e vediamolo in alcuni. riuscite a vedere questa nuova videata? Ci siamo? Perfetto. Allora, questo caso lo avete ovviamente postato su Blackboard, vediamo di rappresentarlo un po' più, con uno zoom un po' migliore. Sostanzialmente che cosa abbiamo? Abbiamo uno stato patrimoniale attivo riclassificato secondo l'articolo 2424. Questo è importante, è importante partire anche dallo schema civilistico perché tutte le imprese hanno ovviamente uno schema civilistico. Poi abbiamo nel secondo foglio di lavoro il passivo. Adesso non entro nella spiegazione delle singole voci che in questo momento non ci interessa in maniera particolare. Vedete che ci sono anche dei valori percentuali che pongono total civil uguale a 100. Tornando un attimino indietro, ecco, voi trovate una cosa importante. Vedete che c'è la voce squadratura? È importante dire attenzione che la squadratura non deve esserci. Facciamo un esempio. Adesso poi vi dirò dove trovare questo schema di file è riportato sotto gli esercizi in blackboard. Quindi lo trovate e vi darò anche delle indicazioni. Adesso, non è necessario trovarlo immediatamente in questo momento. Per capire come funziona la squadratura, supponiamo di dire una voce a segni, anche se le assegni non si usano più, aggiungiamo una voce di 999. Vedete che troviamo una squadratura, quindi questo valore che ho aggiunto mi dà una squadratura di 999. Togliamo e torniamo al punto precedente. Aggiungo 777, vedete che ho una squadratura di 777. Allora, ripeto, è importante avere le attività che bilanciano, che quadrano con le passività. Se per caso c'è una squadratura, cercate di accorgerne e di sistemarla, altrimenti a cascata anche rendi conto, poi ovviamente non quadrerà più. Abbiamo poi quindi l'attivo con la quadratura, il passivo l'abbiamo visto, il conto economico scalare, secondo sempre lo schema del codice civile, con un risultato netto. Anche qui la squadratura non ci deve essere una squadratura tra utile del conto economico e utile dello stato patrimoniale. Se io vado a mettere una voce anche qui di 888, vedete che compare anche sotto, quindi ho aggiunto questa voce qui, c'è una squadratura perché manca il conto di collegamento tra stato patrimoniale e conto economico. Abbiamo poi altri fogli che qui non andiamo a considerare e cerchiamo di arrivare subito, vedete troviamo il conto economico col valore aggiunto, gli indici, lo stato patrimoniale condensato, altre cose che abbiamo visto, ma vediamo le variazioni dell'attivo, foglio abbastanza semplice, foglio di lavoro che mi dice guarda in questo ambito, poi faremo anche l'esercizio, quindi cercheremo di svilupparlo insieme, semplicemente vai a vedere, vedete la variazione tra lo stato patrimoniale e attivo con due colonne consecutive, la voce E15 rispetto alla C15, che cosa è cambiato? variazioni dell'attivo, abbiamo specularmente sotto, mi raccomando, guardate la squadratura, anche qui, torniamo alla voce assegni, possiamo avere 333, vedete che questo mi genera una squadratura, quindi controllatela sempre perché è importante. Poi consideriamo le variazioni del passivo, anche qui non ci sono particolari commenti da fare, andiamo a pescare una singola cella, ad esempio gli utili, non so, la riserva legale che è cambiata rispetto all'anno precedente, o utile dell'esercizio che incide anche a livello di valutazione complessiva e queste sono le variazioni del passivo. Poi abbiamo il flusso di cassa, ecco qui abbiamo una prima videata sulla quale ci soffermiamo, che considera il rendiconto finanziario nell'accezione che noi abbiamo considerato. Nella videata successiva avete un collegamento, vedete come si chiama il foglio di lavoro, lo schema di rendiconto finanziario, facciamo una zoomata, proposto dal principio contabile OIC10, quindi questo schema si parla con lo schema precedente, questo è il metodo indiretto, c'è poi anche un metodo diretto. E abbiamo una voce di quadratura. Allora, guardate una cosa importante, qual è il risultato che io ho? Dopo entriamo nel dettaglio ovviamente. La variazione del flusso di cassa nel primo anno è 1409-520. Qual è il risultato che io ho nello schema che segue i principi contabili nazionali OIC10? 1409-520, è esattamente lo stesso valore. Come vi anticipavo in precedenza, partono da ipotesi anche un po' diversi, hanno un percorso, una strada differente, ma arrivano allo stesso punto. Facciamo un esempio stradale. Voglio andare in autostrada da Milano a Genova, non importa se faccio la Volte o la Serravalle, l'importante è capire che il punto di partenza e il punto di arrivo sono gli stessi. Ovviamente ci sono delle differenze di percorso nell'ambito delle due strade che posso scegliere. Quindi vi ho fatto capire e potete anche apprezzare questa cosa facendo esercizi per conto vostro già sul caso Delta, che questo cash flow, il nostro cash flow, quello che ci serve ai nostri fini è assolutamente comparabile con quello che poi consideriamo nell'ambito del principio contabile nazionale. Se volete potete usare il metodo anche diretto che è un'alternativa da principi contabili nazionali, i cosiddetti Italian Gap, Gap sta per General Accepted Accounting Principles, oppure potete fare un collegamento anche con i principi internazionali, gli ACFRS. Allora, veniamo a un commento del cash flow del rendiconto finanziario secondo il nostro schema. Sono le stesse cose che poi trovate anche nell'ambito della lettura a cui abbiamo fatto riferimento fino a qualche minuto fa. Allora, qui abbiamo punto di partenza, il MOL. Ecco, seguite anche i colori, se siamo affetti dal tonismo, questi colori ci aiutano anche a capire che cosa c'è sotto. Quindi lo schema riporta sotto una specifica analitica. Esempio, qui abbiamo il MOL con un certo colore. Poi abbiamo la variazione del capitale circolante netto operativo, 1443-983. Vedete la cella più C50, andiamo alla voce C50 e dice esattamente come si forma. Vedete che avete tutta la specifica. Dove vado a prendere le singole voci? Essendo circolante sono tutte voci di stato patrimoniale. Non vado a pescare il circolante dal conto economico. Entriamo in una cella, variazioni dell'attivo, variazioni di rimanenza. Ho debiti verso fornitore, entriamo nella cella, variazioni del passivo. Quindi vedete il collegamento con i fogli di lavoro. Ecco, attenzione, è molto importante imparare a usare Excel e applicarlo anche all'analisi finanziaria, all'analisi di bilancio. Io ho una pretesa che comincio a svelarvi oggi. Se io vi esprimo un concetto nel corso di finanza e questo concetto non può essere trasfuso in Excel, ci sono buone priorità che sia un concetto sostanzialmente inutile. Prendetelo un po' come una battuta, ma la finanza è una materia anche quantitativa, basata su numeri, anzitutto su numeri di natura contabile. Allora, abbiamo visto questo colore giallo che abbiamo associato alla variazione di circolante, capitale circolante netto operativo. Abbiamo poi la CAPEX, la variazione dell'attivo immobilizzato, sfondo verde, assorbo risorse per 229.170, anche qui la voce del C56 è questo. E ovviamente si riferisce anche a questi aspetti. Allora, attenzione, c'è anche la voce ammortamenti. Perché gli ammortamenti sono presenti? Perché è una componente di costo che serve per considerare la variazione delle immobilizzazioni nette, ripeto nette, e li considero qui. Io non considero gli ammortamenti nel MOL. Il MOL è il punto di partenza. Il fatto che li abbia qua sopra mi dice, puoi arrivare al MOL partendo dall'EBIT, ma potresti anche partire dall'alto, ricavi operativi monetari, meno costi operativi monetari, in questo caso gli ammortamenti sono sotto, perché conseguenzialmente nel conto economico scalare gli ammortamenti vengono dopo il margine operativo lordo. Se usiamo l'acronome inglese di MOL, cioè EBITDA, earning before depreciation, eccetera, eccetera, cioè vuol dire sostanzialmente che abbiamo un utile earning before depreciation, ammortization, interest and taxes, dove depreciation è l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, l'ammortization è l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, marchi, brevetti, avviamento, eccetera. Quindi è l'utile prima di queste componenti. Abbiamo delle imposte operative, basate su una base imponibile, qualcuno mi ha fatto anche la domanda, la base imponibile ovviamente è una sorta di differenza tra ricavi operativi e costi operativi e tutto questo mi dà un flusso di cassa operativo. Abbiamo poi le passività finanziarie, altre voci che adesso non commentiamo tanto, le trovate nell'esercizio che dovete svolgere anche voi per fare un primo test di compenetrazione, di sincronia tra l'Excel e la finanza aziendale, le riclassificazioni di bilancio, abbiamo variazione di passività nette sfondo blu, voce C64, c'è un dettaglio in questo ambito. Variazione di passività intercompany sono zero, variazione di patrimonio netto con questo sfondo grigio, voce C74 e la troviamo qua. Attenzione arriviamo adesso alla fine, arriviamo a esprimere un valore complessivo che ci dice sostanzialmente che cosa vogliamo vedere. Allora, vedete che il flusso sanetto per i soci nel primo anno 1409-520 calcolato in modo analitico corrisponde con quello calcolato in modo sintetico? Lo vedete? Ci siamo? Questo è molto importante, è un aspetto assolutamente fondamentale. Qual è la squadratura? La squadratura è zero. Cosa succede quando c'è una squadratura? Succede che abbiamo ovviamente sbagliato, questo sbaglio dobbiamo anche andare a considerarlo. Allora, dove abbiamo sbagliato? Se c'è un errore di qualche tipo, dove è stato generato questo sbaglio? Nelle variazioni di stato patrimoniale, se così è, io mi porto dietro anche un qualcosa che è sbagliato. Facciamo un esempio, inseriamo nelle variazioni dell'attivo, nelle partecipazioni la voce 666, la squadratura di 666, il cash flow, vedete che c'è la squadratura anche che mi porto dietro nell'ambito del rendiconto finanziario. Quindi, la squadratura, se c'è una squadratura o è generata nelle variazioni dello stato patrimoniale, o c'è nel conto economico, prendiamo il conto economico, aggiungiamo una voce in questo anno di rivolutazione e partecipazioni 555, a livello di cash flow avrò una squadratura di 555. Vedete come ci portiamo dietro queste cose. Ecco, fate un'analisi anche di sensitivity, di causa-effetto. Se muovo un bastoncino degli Shanghai, qual è l'effetto domino, l'effetto a catena sugli altri? Ma soprattutto notiamo che il flusso di cassa derivato in modo analitico nell'ambito del rendiconto finanziario deve corrispondere al flusso di cassa derivato in modo sintetico. La differenza di rispondenti liquide finali e iniziali. E questo è particolarmente importante. Allora, questo numero che porta una squadratura pari a zero è assolutamente coerente con che cosa? Con questo schema della nostra lettura. Il rendiconto finanziario, questo, il flusso di cassa netto per i soci, quello ricavato analiticamente, deve essere corrispondente, allora c'è scritto anche sotto, il flusso di cassa netto per i soci, corrisponde all'unica area residua non considerata sopra, questo calcolo anche basato sulle lettere. La liquidità è presente nelle variazioni di stato patrimoniale come valore obiettivo, cioè esattamente questo. La parte sintetica è rappresentata da questa voce, dalla liquidità, la voce A. Quindi questo ci fa capire anche come andiamo a posizionarci. A questo punto abbiamo terminato questa lezione, questa introduzione contabile al rendiconto finanziario. Rimanette in linea, ci ricolleghiamo poi per l'altra lezione.